A seguito di alcuni aggiornamenti sui browser che utilizziamo solitamente può capitare che all'interno di Magento ci troviamo che non possiamo più andare a caricare nuove immagini o modificare le immagini esistenti all'interno delle schede prodotto o anche nei contenuti della parte CMS, quindi delle pagine perché in base al browser ci potremo trovare o che manca il tasto di upload o che ci troviamo un tasto come questo, uno spazio grigio se abbiamo lo spazio grigio qui basta andare a cliccarci sopra dire consenti sempre, questo permetterà praticamente ad Adobe Flash di utilizzare i plugin necessari, quindi diciamo al nostro browser di accettare i plugin necessari per il nostro sito per poter operare correttamente perché l'upload viene fatto tramite dei plugin Flash quindi se siamo all'interno di Firefox e abbiamo il tastone grigio clicchiamo sopra e gli diciamo consenti sempre a questo punto ci torneranno ad apparire i nostri tasti che ci permetteranno di fare sfoglia all'interno delle cartelle del computer e l'upload se invece stiamo usando Google Chrome non abbiamo quel tasto nero che appare in Firefox quindi non abbiamo dove poter cliccare per dire sistema di appunto abilitare il Flash per il sito quindi tramite la voce impostazioni andremo a definire sulla voce avanzate alla voce impostazioni contenuti Flash andremo ad aggiungere all'elenco dei siti consentiti il nostro sito web avendo attenzione di inserire HTTP o HTTPS in base al fatto se abbiamo meno certificato SSL e l'indirizzo del nostro sito con www o senza www in base a come lo utilizzi una volta fatto aggiungi se io torno alla pagina del mio sito e vado ad aggiornarla tornando sulla voce immagini avrò di nuovo la funzionalità per fare l'upload e il browse all'interno delle cartelle e poter caricare a questo punto le immagini come facevo prima buon lavoro